A quale età succe la carriera di un pallavolista? Quello più giusto davanti. Penso che adesso, rispetto a un po' di tempo fa, la carriera di un giocatore si è allungata parecchio. Poi dipende un po' da come ti senti tu, da come arrivi a una certa età fisicamente, se è ancora in grado di sostenere gli allenamenti, di giocare ad un buon livello e soprattutto se ci sono delle società che ti richiedono, perché se no non è che tu dici, beh io posso giocare, ma se non hai delle società che ti vogliono bisogna per forza smettere. Comunque ho visto, io ne ho 39 adesso, ho visto altri giocatori che fino a 39-40 sono arrivati tranquillamente. Più o meno diciamo che siamo su quella... Poi c'è chi si stanca prima, chi non ha più motivazioni, può anche smettere prima, però se uno è motivato e sta abbastanza bene, intorno ai 39-39 ci arrivi. Poi, chi è che c'è ancora? Nessuno. Allora, c'è questo, cosa vuoi mi chiedere? L'orezzo, cosa vuoi mi chiedere? Vai Lori! La voce è alta! Domanda? È un evento, vai! Dì, dì, dì. Dì, 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 dì. Ma che ora ci prendiamo? Noi di solito alle 8 della mattina, tu credo ti svegli. Le 8, tu alle 7 e mezzo, presto? Mi mamma si avvide le 8 perché devi andare a lavorare alle 8. Eh, più o meno anche 9. Tu credo ti svegli. Oddio, alle 9. Alle 9. Alle 9 quando non vai all'asilo.